Ecco a voi la preview del mio circolo di amicizia, uno speciale album di ricordi per amici. Un album che può essere riempito dagli amici, dedicato alla mia mamma Giovanna. Spazio per raggiungere foto e per raggiungere tutti i nomi degli amici che lo compileranno. Un'introduzione, una spiegazione di come è nato questo libro e poi il primo dipinto con tre pagine da riempire a mano su cui scrivere le proprie note felici di chi si è, quali sono le cose che contribuiscono alla nostra felicità, le cose che abbiamo osato fare, che vorremmo fare, le nostre riflessioni, i ricordi, i consigli, i primi ricordi della persona che stiano con la persona a cui si regala questo libro. 26 volte, sempre alternato, con un dipinto e una quota motivazionale. 26 dipinti e 26 aree da riempire, tre pagine. 25 dipinti e 26 aree da riempire, tre pagine.